Perché alcune persone non rispondono ai messaggi e perché altri rispondono subito? Me l'ha chiesto Vittorio, uno dei follower di questo canale, in un commento sotto un video precedente. Sono sicuro che è una domanda che ti sei fatta o ti sei fatto anche tu, perché in effetti è una grande verità in un'epoca in cui la comunicazione tramite messaggistica sta prendendo sempre più piede. Esistono persone che tendenzialmente rispondono quasi subito a questi messaggi, mentre altre lasciano passare del tempo, a volte anche giorni, prima di dare una risposta. Anche questo fa parte della comunicazione relazionale, di cui mi occupo da una vita, aiutando le persone a relazionarsi tra loro nel mondo migliore e più etico possibile, ma anche a capire se stesse e le proprie esigenze emotive. Dopo la sigla vediamo insieme i possibili motivi per cui spesso ci sono dei ritardi notevoli nelle risposte ai messaggi. A tra poco! Il più comune e comodo canale di messaggistica oggi è Whatsapp, che è famoso non solo per la comodità che offre oggi grazie a un'applicazione su desktop, ma anche per i famigerati segni di spunta a fianco dei messaggi inviati, che ci avvertono se il messaggio è stato consegnato, ma non letto, oppure consegnato e anche letto, nel momento in cui appaiono le doppie spunte blu. Già il fatto che esista un'operazione di settaggio dell'applicazione per far evitare di sapere a chi ci scrive se abbiamo letto o no il suo messaggio è una chiara dimostrazione di uno dei gravi problemi di questo tipo di comunicazione. Un tempo, quando il telefono era semplicemente uno strumento per parlarsi, era tutto più semplice. Con una persona ci potevi dialogare, oppure no, quando ti chiamava, e se non avevi voglia o tempo semplicemente non rispondevi alla chiamata. Oggi invece con la faccenda dei segni di spunta, che tramite una particolare impostazione possono non diventare mai blu, una persona può tranquillamente leggere i messaggi testuali o ascoltare i vocali ricevuti senza che l'altro lo sappia. E questo è un aggravante al problema, perché offre l'alibi fasullo di non aver letto, anche se invece lo si è fatto. Una volta si chiamava origliare, oggi è piuttosto normale. Nonostante gli smartphone ci promettano più libertà, ci troviamo tutti in una costrizione paradossale che ci obbliga a comunicare, esacerbata non solo dalla messaggistica, ma anche dai social network. In tutto questo scenario, che era impensabile per un essere umano occidentale vissuto prima dell'avvento di internet, da un lato godiamo di grandi comodità, dall'altro continuano a moltiplicarsi i disagi emotivi, tra cui, ed è il tema di questa puntata, l'amaro in bocca che ci resta quando qualcuno non ci risponde in tempi brevi o finge di non aver letto. Ci sono, a mio avviso, tre macro-aree in cui si muovono i messaggi. La prima è quella professionale, dove palleggiamo messaggi con i clienti, con i colleghi, con i capi, i subalterni, e di solito è abbastanza fluida, nel senso che pochi attori in questa area possono permettersi di mancare all'appello, per mille e ovvi motivi. Ed esiste una sorta di scala gerarchica, per cui il capo può permettersi di non rispondere subito a un subalterno, ma il contrario è sicuramente più pericoloso. La seconda è quella della famiglia, che comprende i genitori, sempre che siano al passo con i tempi, che abbiano uno smartphone e sapiano usarlo, anche per la messaggistica. Mia madre di 82 anni, ad esempio, lo sa usare solo per telefonare. Comprende i figli, che quando non rispondono ai messaggi di un genitore possono pagare sanzioni di vario genere. Comprende anche altre persone che si muovono in quest'area, come i fratelli, gli zii, i cugini, partner ovviamente. Anche quest'area, salvo situazioni di conflitto, di solito è abbastanza responsiva ai messaggi, per questioni di responsabilità. Infine c'è l'area che potremmo chiamare svago, dove gli attori sono gli amici e i potenziali oggetti di desiderio, non ancora partner fissi. Ed è qui, a mio avviso, che sono più cocenti le mancate risposte. Al di là dell'ovvio, per una persona adulta che lavora, non è detto che ci sia sempre il tempo per rispondere in tempi brevi a un messaggio. Magari viene letto, ma in quel momento il destinatario non ha tempo per rispondere e poi se ne dimentica. Non dobbiamo dimenticare che alcuni vivono giornate veramente incasinate e nonostante le migliori intenzioni non ce la fanno proprio a essere presenti e puntuali davanti a un messaggio ricevuto. Naturalmente, se hai un potenziale di seduzione alto, anche la persona più incasinata del mondo si ricorderà a fine giornata che deve risponderti e si preoccuperà di farlo. Viceversa, è molto più difficile che accada. Tuttavia, come ti ho accennato all'inizio, per fortuna non tutti sono così incasinati e alcuni comunque decidono di non rispondere o di aspettare ore, se non addirittura giorni, e a volte manco rispondono. In questi casi, nella mia visione, la non risposta è comunque una risposta. Come dice il primo assioma della pragmatica della comunicazione, che recita non si può non comunicare. La non comunicazione davanti a un messaggio ricevuto è comunque sempre una comunicazione che suggerisce quanto al destinatario interessi poco, aver a che fare con noi. È fondamentale a questo punto parlare di quello che lo psicologo Stefano Bene Meglio ha teorizzato riguardo alle distonie, ovvero fondamentali sfumature caratteriali degli individui. Chi appartiene alla cosiddetta distonia dell'essere è un soggetto che si coinvolge molto proprio quando non riceve risposte e dall'altra parte viene somministrata una sorta di assenza. Il distonico dell'essere tende a dare un potenziale seduttivo alle persone che si negano, che si fanno rincorrere, che non offrono presenza, ma costringono nel desiderio. Una mancata o tardiva risposta a un messaggio quindi può anche accendere in questi soggetti una sorta di risentimento sul piano logico-razionale. Ma chi non risponde si porta a casa un potenziale molto forte, diventando più significativo, proprio perché con la sua assenza alimenta il desiderio, che è il carburante preferito dei distonici dell'essere sul piano inconscio. Chi invece appartiene alla distonia dell'avere inconsciamente ha la predisposizione opposta, ovvero quella verso il possesso delle persone e delle cose. Quindi quando non riceve risposte è più propenso a chiudere, a farsene una ragione velocemente. In buona sostanza il distonico dell'avere si sgancia molto più facilmente quando qualcuno si fa desiderare. Tendenzialmente, per essere più chiaro possibile, il distonico dell'avere, dal momento che nei panni del mittente di un messaggio gradisce avere risposte puntuali e veloci, anche quando lo riceve tende a rispondere abbastanza alla svelta. Viceversa il distonico dell'essere, percependo l'attesa come emozionante, perché carica di pathos, può non essere così veloce nel dare risposte. Concludendo, se non riceve risposte puntuali ai tuoi messaggi, domandati quanto sei interessante per la persona che hai contattato. E prendi atto del fatto che insistere o brontolare in questi casi è sicuramente disfunzionale. Ci rivediamo sabato prossimo sul mio canale YouTube, come sempre alle 11 del mattino per la nuova puntata di Briciolo di comunicazione. Buona settimana da Sergio Massimo. Buona settimana da Sergio Massimo. Buona settimana da Sergio Massimo.